Paralisi cerebrale spastica infantile, tetraparesi spastica e encefalopatie sono alcune delle patologie di cui sono affetti i bambini dai 6 ai 17 anni, che vengono seguiti presso la struttura Casa d'Oro di Cremona, operativa dal 2012 come centro diurno dopo la nascita della cooperativa Il Cortile più di 30 anni fa. Ha preso il via sotto la spinta e il desiderio di alcune famiglie che vivono l'esperienza di un figlio con disabilità grave, partita come sperimentazione, ha da subito coinvolto il territorio. L'obiettivo è di creare un ambiente di benessere e di accoglienza, questi bambini hanno bisogno di essere voluti bene, ma di essere guardati uno per uno per i bisogni che portano, che sono di tipo sicuramente sanitario e di assistenziale, ma soprattutto relazionale. Quindi creare un ambiente dove sono stimolati a recuperare uno stato di benessere, ma anche e soprattutto la possibilità di una relazione positiva è il nostro obiettivo. Sicuramente anche il sostegno alle famiglie è un obiettivo non secondario, parimenti come dire importante, però ecco la nostra soddisfazione è proprio di vedere a volte questi bambini che appunto non parlano, non comunicano nella modalità nostra solita, regalarci sorrisi nel momento in cui si propongono alcune attività, oppure si sentono appunto molto bene, molto accolti e quindi c'è il sorriso, c'è la risata, c'è la lacrima in alcuni momenti, in alcune attività e questo è veramente il segno che questo luogo è per loro. I progetti sono individualizzati e sintetizzano i percorsi sanitario-riabilitativi, assistenziali, scolastico-educativi e sociali. Ovviamente la situazione con il Covid ha messo molto in difficoltà la frequenza di questi bambini che hanno una situazione sanitaria molto delicata e particolare. In questo momento stanno frequentando tre bambini e da subito, diciamo, dalla fine del primo lockdown lo abbiamo riaperto e da allora abbiamo sempre potuto erogare il servizio e quindi siamo contenti perché abbiamo potuto davvero accompagnare le famiglie in questo momento così complesso. Le attività guardano al futuro con nuove proposte. Abbiamo pensato di partire dopo Pasqua con una nuova attività, abbiamo coinvolto degli amici che si occupano di pet therapy, quindi proporremo ai nostri bambini un percorso di avvicinamento all'animale e anche questo va a arricchire un po' la proposta che chi frequenta Casa d'Oro ha la possibilità di utilizzare.